ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi un nuovo video un video come potete vedere di nail art e già l'unghia l'ho preparata vedete eccola qui queste qui le fanno schifo lasciate perderne delle prove che ho fatto non mi sono venute va bene allora e già ho applicato il colore e ho messo anche il top coat colori matt per fare diventare l'unghia paca per fare poi il disegno comunque sempre con il gel color e andremo ad realizzare un pinguino diciamo che sta seduto sopra un'altalena insomma ecco allora vi faccio vedere i colori che andrò a utilizzare allora per lo sfondo base ho utilizzato questo qui trinidad che dalle linea caribe p05 eccolo qua poi andremo ad utilizzare il pure white fast f01 poi blu di persia che è il classico c 34 poi comunque vi farò vedere dopo i colori quando li apro poison black fast f16 e questo qui che si chiama li cuori se yellow che questo qui è questo qui e questo qui io faccio i terrenati dopo questo qui va girato ovviamente che per fare le zampette del pinguino e il beccuccio e il becco però così qui ne è da passione unghia insomma così qui ovviamente li uso solo per le tip per fare prove così né nell'arte eccetera eccetera non uso sui clienti che ormai questi è andati e niente allora cominciamo subito e io vi lascio quindi al e io vi lascio 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 un colore che è il nocciola classiche c 49 per fare l'altalena c'è la sedia dell'altalena scusatemi mi ero scorata questo di colore eccolo qua e con questo qui adesso ci faccio l'altalena e io vi lascio un'altra 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 e questo qui è un'altra e io vi lascio un'altra e io vi lascio un'altra e io vi lascio un'altra Se è stato così mettete il pollice in su, sotto al video se volete commentatemi e noi ci vediamo presto al prossimo video. Un bacio, ciao!